Prepara la tavola prima della cena. Leggi il libro prima di addormentarti. Torna a casa dopo aver fatto la spesa. Guarda il film mentre bevi un caffè. Fai una pausa dopo aver studiato. Lavati le mani prima di mangiare. Metti il cappotto mentre sta piovendo. Spegni le luci in casa prima di uscire. Prepara la colazione dopo la passeggiata. Controlla le e-mail prima della riunione. Finisci di fare la valigia prima di partire. Fai una lista della spesa prima di uscire. Scrivi un riassunto dopo la lezione. Vai a letto mentre controlli il tuo telefono. Quella sedia laggiù è di legno. Luca se ne va tra due giorni. Ho risposto a un messaggio. Manca molto tempo a Natale. Lo zaino è sul tavolo in cucina. Un anno fa ero in Colombia. Prova a chiedere a qualcuno. Siamo quasi a dicembre. Tuo cugino esce spesso di casa. Vado a lavorare ogni mattina. Ho bisogno di mangiare un po'. Oggi a Venezia fa molto caldo. Non usciamo da cinque mesi. Ho dipinto la parete di giallo. Devi uscire a spostare l'auto. Ho mangiato il pesce con il pane. La tua collega vive con suo padre. Ho sentito un suono da fuori. Sono stato al negozio stamattina. Hai un impegno con quel cliente. Oggi lo zio viene a trovarci. Oggi lo zio viene a trovarci. La mattina bevo molta acqua. Gli italiani sono molto eleganti. Gli olandesi sono molto allegri. Vedo molte donne vestite bene. Conosco molte lingue straniere. Molti autobus aspettano in fila. Le regioni italiane sono molte. Questi sono molto interessanti. Luca e Claudia sono molto belli. I nipoti stanno molto bene. Sto molto bene e sono felice. Molti amici sono arrivati adesso. Cerco di imparare molte lingue. Molti studenti sono in ritardo. La domenica mangia molti dolci. La domenica mangia molti dolci. Se me lo chiedesse glielo direi subito. In realtà... Ha i guanti stretti. Non può toglierseli. Hai guanti stretti. Non può toglierseli. Di biscotti non ce ne sono più. Fateci trovare la macchina pulita. Gliel'ho detto ieri sera dopo cena. Non riesco a farglielo ammettere. Il progetto glielo porto domattina. Se ti piacciono te ne compro due. Il ladro non è riuscito a rubarmelo. Diglielo appena vi vedete domani. Se hai l'acqua gliene dai un po'? Sono andato allo zoo. Abito al quarto piano. Parlo ai vicini di casa. Andiamo all'università. Abito all'ultimo piano. Parliamo agli insegnanti. E' all'interno della casa. Telefono alle mie amiche. Telefonano alla vicina. Domani vado allo stadio. Abito al secondo piano. Abiti all'ultimo piano. Parlo ai tuoi amici. Telefonano agli italiani. Vanno allo zoo. Andate al bar. Sono agli ultimi posti. Il turista è all'incrocio. Parlo al direttore. Fa freddo ai due poli. Non ti ho visto alla festa. Quindi. Sta piovendo. Quindi portati un ombrello. Mi stai simpatico. Quindi ti invito a cena. Quindi. Cos'hai deciso alla fine? Non mi ha neanche chiamato. Quindi. Quindi. Grazie a tutti per essere venuti. E quindi. Che cosa significa questo? Fa caldo. Quindi non possiamo uscire. Allora. Allora. Che cosa facciamo stasera? Allora. Oggi studiamo i connettivi. Non hai cenato. Allora devi mangiare. La foto è vecchia. La foto è vecchia. Allora era il 1920. Da allora non ci siamo più visti. Non c'è il gelato. Allora non c'è il gelato. Allora mangio l'uva. Allora. Cosa avete fatto ieri sera? Infatti. Fa caldo. Infatti la neve si scioglie. Sembrava buono. Infatti l'ho mangiato. Oggi piove. Infatti nessuno va al mare. Napoli è bella. Infatti ci vado spesso. Non piove. Infatti vado a camminare. Ho fatto bene a dirglielo. Infatti. E infatti alla fine avevo ragione. Vieni con noi o no? Insomma. Cosa vi hanno detto? Come stai oggi? Insomma. Ma insomma. Cosa hai fatto qui? Ho cenato bene. Insomma. Sono sazio. L'auto è comoda. Insomma. La compro. La casa è grande. Dunque giusta per noi. Dunque. Stavo dicendo che oggi piove. Dunque. vieni con noi oppure no? Dunque. Andiamo in pizzeria stasera? Qui c'è silenzio. Dunque dimmi tutto. Ho finito il lavoro. Dunque vado al lago. Dunque. Cosa mi stavi dicendo? Quanti di voi passeranno le vacanze in Italia? Quando ti svegli la mattina? Molto presto. Quanto costa quel libro? 40 euro. Quanti figli avete? Un maschio e due femmine. Dove abiti? A Madrid? No. Abito a Lisbona. Come trovi i tuoi colleghi? Sono simpatici. Quali progetti sta realizzando la tua ditta? Quanto durerà il film? Circa un'ora e mezzo. Chi conosci a questa festa? Solo tuo figlio. Quanta gente è venuta all'inaugurazione? Da quanto abiti qui? Da cinque anni. Qual è il tuo sport preferito? Il calcio. Che lavoro fai? Faccio l'insegnante. Quando hai cominciato a lavorare? A 22 anni. Mi sono addormentato anche stavolta. Non ho nemmeno pensato una cosa simile. Non ho sbagliato neanche questa volta. Non l'ho detto e non lo penso neppure. Avete aspettato anche troppo tempo. Non andiamo a teatro neanche per idea. Non era male. Ci siamo perfino divertiti. Se n'è andato senza neppure salutare. No, non ci sono nemmeno andato. E tu? Hai finito il lavoro di oggi? Neanche io. Non ci vado nemmeno se mi obbligano. Mi sento triste e inoltre sono stanco. Pure voi mi avete detto una bugia. Non ho fatto neanche in tempo a farlo. Nel libro ci sono alcuni sbagli. Dopo mi bevo un altro caffè. A scuola tutti vanno d'accordo. Oggi non ho visto nessuno. Devo risolvere certi problemi. Ogni libro deve stare in ordine. Avete perso molti documenti. Ci siamo visti diversi mesi fa. Non ho trovato nessun traffico. Fino a stasera ho troppo da fare. Basta poco per pulire la casa. Ho sentito cosa dicono gli altri. Abbiamo poche piante in casa. I dipinti qui sono di varie epoche. Mi raccomando, state molto attenti. Noi siamo arrivati. Voi ci siete? I nostri figli sono molto felici. In questi giorni sto un po' male. Sto per andare al parco. Tu ci vieni? Claudia è una cardiologa. Secondo te ci stiamo tutti in auto? Queste scarpe mi stanno male. Quel cappello ti sta bene. Non disturbarmi. Lasciami stare. Non alzatevi. State seduti. Come stai? Sto bene, grazie. Sto guidando. Sono in autostrada. Lui è sempre il migliore. Queste scarpe mi stanno strette. Ieri non eri insieme a noi. iscriviti al nostro canale. ~? Sì.